Siamo a Taranto in zona San Vito, precisamente in viale del tramonto e siamo in compagnia di Irene Lamana, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Una bellissima estate, si avvicina, si prospetta in una cornice suggestiva, altrettanto suggestiva, quella di San Vito che Madre Natura ci ha regalato. Però occorre anche creare i presupposti della vivibilità, di cui la campagna per combattere blatte, insetti e quant'altro, quanti altri insetti appunto minano alla pubblica incolumità, all'igiene pubblica. Sì, effettivamente in questi giorni tantissimi residenti si sono rivolti alla nostra associazione per vedere risolto questo annoso problema delle zanzare e delle blatte nel quartiere San Vito come in tutta Taranto. Ovviamente ci siamo rivolti agli organi competenti che ci hanno risposto che purtroppo per problematiche tecniche hanno dovuto posticipare l'intervento. Ahimè, questi sono interventi che si iniziano dal mese di febbraio e che si ripetono ogni dieci giorni. Però posso constatare che la colpa dell'incuria e della mancanza di igiene non è solo e soltanto della pubblica amministrazione ma anche delle proprietà private. Infatti abbiamo richiesto altresì all'ufficio competente, quindi all'ufficio ambiente, di provvedere di concerto con la polizia ambientale a verbalizzare tutti quei terreni di privati lasciati incolti e soprattutto non recintati affinché la futura e speriamo prossima disinfestazione e deblattizzazione possa avere dei buoni risultati sul territorio e per residenti, cittadini e commercianti. Grazie Grazie